Marco Marsiglio, Presidente della Regione Abruzzo, per Fratelli d'Italia. Veramente un telegramma. Allora, Giorgia Meloni è pronta a votare anche Presidente del Senato Casellati. Sappiamo che a lei non sarebbero dispiaciuti né Cassese né la Belloni, ma sul candidato, diciamo, di bandiera può essere perfino irriguardoso, ma insomma, sul candidato di questo peso, la Meloni è d'accordo? Diciamo, di bandiera può essere perfino irriguardoso, ma insomma, sul candidato di questo peso, la Meloni è d'accordo. Ha sentito, Presidente Marsiglio? Assolutamente sì. Noi siamo stati d'accordo e siamo d'accordo sull'intera rossa, Fratelli d'Italia, il partito che ha messo meno voti in assoluto. Bene, quindi poi torneremo da lei per approfondire. La Casellati, così sembra, ma vorrei chiedere al Presidente dell'Abruzzo Marsiglio, persona se vicina a Giorgia Meloni, che è con Giancarla Rondinelli, se può confermare la notizia che è arrivata proprio un minuto fa, secondo cui ci sarebbe stato un po' di tensione nel vertice di centro-destra, perché Giorgia Meloni avrebbe chiesto di votare Nordio, che era il suo candidato e che ieri aveva preso il doppio dei voti, dei 63 voti di Fratelli d'Italia. È corretto? Il doppio dei voti di Fratelli d'Italia l'aveva presi Crosetto, dimostrando una grande forza e compattezza della proposta di Fratelli d'Italia. Ma in realtà, se c'è stata tensione in questi giorni, anche dentro la coalizione, è stato per portare tutti quanti sulla strada che poi abbiamo imboccato e noi siamo soddisfatti, e cioè la coalizione di centro-destra deve votare un nome, deve proporre un nome che sia il più alto autorevole possibile, perché così può avere le maggiori possibilità di raggiungere il quorum e di poter essere eletto a Presidente della Repubblica. Noi speriamo che possa essere anche condiviso ufficialmente da altre forze politiche. In ogni caso, è doveroso spezzare questa litania delle schede bianche o delle astensioni, questo rito bizantino ormai superato. Speriamo che sia l'ultima volta che il Presidente della Repubblica si elegge con questo spettacolo indegno e che il popolo italiano possa avere lo stesso diritto. Questo vi fa un auspicio comune, per fortuna, quindi abbiamo sette anni di tempo per farlo. Mi scusi, abbia pazienza. La conferma, immaginate di votare casellati o potete ridiscutere e magari ottenere di votare Nordio? Noi abbiamo dato mandato a Matteo Salvini di fare la sintesi e la rispetteremo con disciplina e con spirito di unità della coalizione come è sempre stato. Non saremo noi a piantare grane nel campo del centrodestra. Bene, grazie Presidente Marsiglio.